Al Comune di Favara non hanno la più pallida idea di come affrontare le emergenze. Prima si emettono le ordinanze, nello specifico le numero 239 e 240, e poi si dà comunicazione alle ore 0044 che la prima non è più valida. Nello specifico parliamo della prima ordinanza sindacale, la numero 239, riguardante il mercato settimanale in programma oggi. Ieri c'era stato comunicato prima dall'assessore Lumia, poi dal dottor Pullara dell'ufficio gabinetto del sindaco, e poi ancora alle ore 13.05 con l'invio a mezzo fax alla nostra redazione dell'ordinanza a firma del sindaco che per oggi il mercato settimanale di Favara non si doveva svolgere per via della chiusura della discarica di Siculiana. Sicilia TV, prontamente informata, ha dato comunicazione alla cittadinanza nel corso dei TG. Ma ecco la sorpresa. Le ordinanze non vengono rispettate neanche da chi le emette. Stamattina il mercato settimanale si è svolto regolarmente. E sapete quando hanno informato la nostra redazione che il mercato si doveva svolgere regolarmente perché hanno trovato una soluzione provvisoria? All'una meno un quarto di questa notte. Che avremmo dovuto fare? Un'edizione straordinaria notturna e svegliare i cittadini per avvertirli dell'improvviso cambio di idea dell'amministrazione? C'era stato detto anche dall'assessore Lumia che per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in città per la giornata di oggi, venerdì, non ci sarebbero stati problemi in quanto vi era la raccolta di carta e cartone, materiali che non finiscono nella discarica di Siculiana. Il problema poteva sorgere per domani, sabato, quando vi è la raccolta dell'indifferenziato. Lumia ci aveva informato che non avrebbero fatto alcuna ordinanza e avrebbero aspettato le 24 ore in attesa di un'eventuale risoluzione del problema. E così noi abbiamo informato i cittadini. Alle ore 14 e 19 arriva mezzo fax alla nostra redazione l'ordinanza sindacale numero 240 che ordina il divieto di conferire rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale fino a nuove disposizioni. Sicilia TV ha immediatamente rettificato il primo articolo nel quale si diceva che non c'era alcuna ordinanza in merito aggiornando i cittadini sull'attuale stato di cose, ovvero dell'esistenza dell'ordinanza. Ma ecco un'altra sorpresa. Il sindaco, Rosario Manganella, in un suo commento su Facebook alle ore 16 e 41 di ieri pomeriggio scrive Oggi pomeriggio è stata convocata una riunione presso l'assessorato competente Aspettiamo l'esito. Nell'ipotesi che da Palermo non arrivi la risposta che speriamo di ricevere è già pronta l'ordinanza che vieta il conferimento della spazzatura. Cioè il sindaco alle ore 16 e 41 scrive che è pronta un'ordinanza quando invece due ore prima era già arrivata la nostra redazione. Ma è pubblica o no l'ordinanza numero 240? I cittadini stasera dovranno depositare l'indifferenziato oppure no? Un'amministrazione comunale più confusa che altro se non sanno neanche loro cosa fare come possiamo informare i cittadini e come questi possono ricevere delle risposte. La precisazione è d'obbligo visto le diverse chiamate di favaresi che ci informavano stamattina dello svolgimento del mercato settimanale. Poi voi amministratori non vi permettete di accusare certa stampa di non dare informazioni quando quelle che ci inviate voi risultano errate.